Dauntless nel 2024, è passato davvero tanto tempo e come ogni anno ti darò dei validi motivi perché dovresti giocare a questo gioco. Naturalmente chi sono io? Beh io sono Danny T, o cinghiale di ferro su Dauntless. Quindi benvenuto e bentornato sul mio canale e benvenuto al nuovo video 2024 per quanto riguarda perché giocare su Dauntless. Come sempre non può mancare per ogni Natale il classico film Una poltrona per due e Nightmare Before Christmas. E come ogni inizio di anno non può mancare il mio video in cui ti spiego o meglio ti do le mie valide motivazioni del perché dovresti giocare o quantomeno attendere, e ti spiegherò il perché, Dauntless nel 2024. La prima informazione che va detta è che verrà rilasciata una versione completamente modificato, o meglio che introdurrà delle nuove meccaniche, nuove isole, nuovi bimut e molto altro all'interno del gioco che al momento abbiamo. Queste modifiche però non arriveranno immediatamente nei prossimi mesi, ma bensì dovrai attendere fino all'estate 2024, che più o meno ci aggiriamo dai 6 agli 8 mesi. So che sono tanti mesi, so che sono tanti giorni e tante ore, però in questo video cercherò di darti un'idea del perché dovresti quantomeno aspettare, o del perché dovresti scaricare questo gioco per comunque giocare in anticipo prima del rilascio di questo mega enorme ultrapaccione. Parliamo del perché dovremmo giocare ora, e attendere il mega pacione, per chi sta iniziando da poco a giocare. Dato che molte meccaniche cambieranno, quindi sia come ottenere i pezzi dei bimut, la quantità dei pezzi che serviranno per costruire armature e armi, al momento, per canto mio, conviene spingersi ed accumulare più risorse e più celle che possiamo. Dato che non è stato detto, o meglio non sono state trapelate nessun tipo di informazioni per quanto riguarda il futuro, per come potranno essere ottenute determinate parti o determinate celle. Di sicuro quello che sappiamo è che è stato rintrodotto di nuovo l'inseguimento, quindi un terreno specifico, piccolo, potremmo definirlo un'arena dove potremo scegliere quale creatura affrontare e da questa ottenere i materiali, quelli più rari, quelli che normalmente possiamo trovare nei terreni di calcia di alto livello. Quindi su questa base non sappiamo quanto sia alta o bassa la percentuale di drop. Per ovviare a questo problema, da canto mio, ti consiglio di sì giocare a Dauntless ora, per avere tutte quelle risorse epiche che ti servono per costruire le armi e le armature che ti serviranno per il tuo set. Parliamo ora dei motivi perché dovresti dare fiducia ancora a Dauntless o perché dovresti installare questo gioco. Una piccola cerchia di sicuro ti dirà che questo gioco è morto e penso che sia qualcosa di estremo perché se il gioco è davvero morto, la Phoenix avrebbe già chiuso tutti i server. Quindi se i server sono ancora aperti e se stanno investendo tempo e risorse per il rilascio di questa patch, significa che anche se è piccola la community, c'è qualcuno che sta ancora giocando. Questo per me è un valido motivo per credere in questo gioco. Ancora crederci nel 2024. Perché anche se sono state rilasciate piccole informazioni, alcune sì, ok, devo essere sincero, non mi sono piaciute. Altre sono curioso e altre aspetto qualcosa di più. Beh sì, queste varie motivazioni mi hanno tenuto ancora attaccato al gioco. Bisogna anche essere onesti. Sì, in questo tempo che è passato tra vacanze di Natale e Halloween, beh, sto in Inghilterra, qui festeggiamo anche Halloween, non sono stato molto presente all'interno del gioco. E questo non lo vedo solo da me, lo vedo anche da tanti. Molti cercano gruppo, è difficile ancora gruppare, ma ripeto ragazzi, è una fase di stallo che sicuramente all'arrivo dell'estate, all'arrivo di questa patch, tutto cambierà. E davvero, ci credo tantissimo su questo. Ma parliamo di cambiamenti, parliamo di patch, parliamo di aggiunte, ma cosa nel concreto, giusto? Il primo che si vuole introdurre risale come notizia al 25 agosto 2023, in cui si parla del cambio delle armi. Che cosa nello specifico? Non è altro che un video in cui facciamo vedere il nostro Slayer che cambia rapidamente, ad esempio da un'ascia e passa una spada, o dalle doppie lame a una lancia, e così via. Il grande quesito che nasce da questo aggiornamento, per quanto riguarda il cambio delle armi, è per le sfide. Come sai, la sfida prevede che devo, in un certo lasso di tempo, uccidere il B-Moth. Ora, questo cambia un po' la classifica, perché? Perché di base le classifiche, o meglio, queste classifiche, erano divise in due sezioni. Un giocatore in singolo con un'arma, o il gruppo. Per quanto riguarda il gruppo, diciamo, non ci soffermiamo tantissimo, ma per quanto riguarda invece il singolo, la classifica era per arma. Quindi, se io ora ho la possibilità di cambiare tra una lama a catena e un'ascia, durante il combattimento, in quale delle categorie dovrei posizionarmi? E se pensiamo che bisogna creare una categoria specifica, per esempio, doppie lame spada, doppie lame lancia, e così via, per il numero di armi che abbiamo, e per il numero di combinazioni che abbiamo, davvero sarebbe da uscire pazzi. Infatti, questo è uno di quei punti che mi lascia un po' perplesso, perché o mantieni questa meccanica del cambio solo quando sei in ascesa, o in terreni di caccia, o nelle prove di Gilda, e mantieni invece un'arma sola quando fai le sfide. Questo avrebbe molto senso, ma vedremo il futuro. Per quanto riguarda, invece, qualche aggiunta in extra, sappiamo che sì, verranno aggiunti nuovi terreni, ma verrà anche di nuovo riproposto l'inseguimento. L'inseguimento non è altro che una piccola arena, per come è stato detto, in cui troveremo, o meglio, sceglieremo quale bimot dovremo affrontare. All'interno di questa arena non solo avremo un bimot di livello molto alto come rarità, o meglio, come pericolo, ma, alla sconfitta di questo, otterremo materiali epici. Questo è un punto davvero molto importante, perché significa che all'interno dei terreni di caccia ciò che potremmo ottenere saranno solo risorse comuni e non comuni e rare. Ma per quanto riguarda il drop epico, dovremmo farmarlo negli inseguimenti. Questo un po' mi lascia pensare, perché comunque vorrei sapere quanto meno la percentuale di drop per quei determinati pezzi, che sì, come sappiamo, di base, già droppare un epico è piuttosto ardua. non vorrei che con l'inserimento degli inseguimenti, e quindi con la possibilità di farmare o comunque cacciare sempre in continuazione, in breve, lasso di tempo, lo stesso bimot, riducano anche la percentuale di drop del pezzo epico che ci serve. Per quanto riguarda invece i bonus, abbiamo un netto cambiamento di stile. Non solo abbiamo creato, o meglio, hanno creato dei bonus molto più semplici da intuire e capire cosa fanno, ma cercheranno di inglobare tutti i bonus di una determinata categoria in un unico bonus. Per intenderci, o meglio per spiegarlo più agevolmente, se abbiamo tre omcelle che potenziano il nostro attacco, invece da avere tre modificatori di potenza, ne avremo uno solo, che naturalmente avrà un cap massimo. A questi modificatori bisogna anche dire che non solo saranno modificatori in positivo, ma al loro interno potremo anche trovare modificatori in negativo. Come ultimo approfondimento per quanto riguarda Dauntless, sappiamo che è sicuro. Verranno inserite molte più piccole creature, il classico porcostrello, quei cagnolini malefici, eccetera. Verranno inserite molte più creature nel contesto del terreni di caccia. Verranno inseriti nuovi terreni di caccia, una nuova grafica per quanto riguarda la selezione del menu dei vari terreni di caccia e in più delle attività di Gilda. Questa è una cosa che fin dall'inizio di quando ho aperto il canale cercavo, o meglio, ho dato la mia idea che era importante mettere il punto sulle Gilde, quindi dare la vera utilità a questo gruppo, alla Gilda, perché all'inizio la differenza tra essere mio amico nella Friendlist ed essere nella mia Gilda non dava così tanta differenza. ora al contrario sono stati inseriti di già sappiamo le prove di Gilda ma in futuro verranno inserite molte altre attività per creare un po' più di sana competizione. Per il resto di quello che è stato detto che verranno inseriti nuovi BIMOT. Ora, per quanto riguarda i nuovi BIMOT al momento attuale quando sto registrando questo video non abbiamo tantissime informazioni. Una cosa sicura però ce l'abbiamo che il Rift Stalker esteticamente è completamente cambiato. Non è quel gatto senza peli ma ora ha una forma più diciamo da felino sì ma con il corpo meglio la parte del busto e la testa come un pipistrello. Quindi mi aspetto che questo lavoro per quanto riguarda il design dei BIMOT si espanda un po' per tutti quindi rendendoli sempre più unici e sempre più legati al loro elemento. Queste sono tutte le valide opzioni e i miei punti di vista perché dovresti continuare a giocare a Dauntless o perché dovresti giocar e quindi scaricarlo. Naturalmente non scordare che è gratuito. Per il resto cosa mi resta da dire? Da Dani T o cinghiali di ferro è tutto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!